Ciao a tutti e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di FIFA unboxing e robe varie C'è la nuova squadra C'è Messi C'è sto tizio Guarda Chi cazzo è questo? Close Sto usando il mouse perchè tutti, tutti usano il controller Invece io no Io no Perchè sono anticorrente Capisci? Pacchetti oro premium maxi 15.000 crediti e ce ne sono 10 Contiene il doppio degli oggetti in un pochettoro premium Da cui uno extra raro 24 oggetti 20 oro di cui 7 rari E indovinate un po? Li spacchettiamo tutti Li spacchettiamo tutti Ma si Ma li spacchettali tutti Io come al solito vi ricordo che il link per i crediti Vi va nella descrizione Oh oh E' Rodriguez Rodriguez Aspetta ma Rodriguez Per il culo? Non è andato né indietro Quello scemo mi ha dato Andiamo Vai così Va che me lo sento Dai, 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 dai Dennis Dennis Che avevo già tra l'altro Che avevo già tra l'altro Quindi non solo mi esce Dennis Ma ce l'avevo già Dennis Oh dai, 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 dai Ho capito che sono 10 pacchetti Ma io voglio quello là colorato strano come si chiama Close Verone 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 Ganност Shivani Comeitez Sus Nag Giulio Cesaro Marion che si è stuttissimo, lucas lei va si ma è a carotti chi è questo sembra di syndicate progett per un momento mi è sembrato conte ma lasciamo stare, no non posso dire conte se no qua succede il casino nei commenti lascia stare dai 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 non posso manco urlare fallo solo perchè non posso urlare ambratat che sei ambratat bonnet madonna dov'è ambratat amrabat 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 che sta piangendo povero dai dai lo so dai oh si dammelo 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 chè perchè qua c'è sabbia c'è sabbia borges e sinovich uff rias nitskimi krull ivanovich adrian divisa è un grande giocatore divisa è bravo in controattacco no fa culo facciamo quel quel cosa che mi cazzo ma che mi cazzo di brutto madonna lascia stare lascia stare oh madonna oh dov'è l'extra laro che mi hai promesso eh qual'è l'extra laro questo io non vedo nessuno extra laro mhm no no qua denuncia qua parte la denuncia daf ilary daf vabbò un altro di questo ma boia che cazzo rulli garcia top toprac enrique mitroglou mitroglou divertente no non ridere ti rendi conto che è l'ultimo l'ultimo io non lo so guarda se poi apro quello d'oro e mi esce qualcosa li picchio li picchio 150.000 crediti nel CS fuck yeah fuck yeah fuck yeah che cazzo è questo fuck yeah è scarso come la morte questo che faccio poi E' scarsissimo Però è colorato io faccio collezione ve l'ho già detto fammelo vedere Aspetta sblocchiamo questo quello bonus magari esce il tizio la come dai close o close Invece un cazzo di nessuno non esce maiale c'è pogba C'è pogba Maschera va qua quanta gente che c'è navas ma navas ce l'ho già Ho capito mi metto a spacchettare tutta la notte iniziamo Ho capito Te devi chiamare le cose te devi chiamare le cose Cazzo cazzo Oh cazzo Ok questo giusto perché non c'è due senza tre ok E infatti mi ha dato un pacchetto che ora aprirò Che ora aprirò questo pacchetto Sai cosa esce in sto pacchetto Ma guarda come te lo dico Messi Papadopoulos 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 Che capio papadopoulos Non ci credo Ah vabbè GG io vi saluto Ciao a tutti Se Ciao